Non ha deluso le aspettative della Notte Rosa di Porto San Giorgio. Sabato scorso 30.000 presenze fra giovani e famiglie che hanno invasso da nord a sud la località Balneare. L'amministrazione comunale e la Proloco hanno premiato in apertura le vetrine più originali dei commercianti a tema rosa. Quindi spettacoli di street band e concerti hanno animato le strade del centro lungo Viale Buozzi, Viale Giordano Bruno, Viale Cavallotti e Viale Oberdan. Sul lungomare Gramsci gli stand dei mercatini, quindi musica cubana e DJ Vicky attorno Piazzetta Silenzi. La notte più lunga dell'estate san giorgese è proseguita fino alle 3 per molti giovani che hanno ballato al ritmo dei DJ set proposti dagli chalet. Da segnalare l'intervento costante delle forze dell'ordine presenti in modo massiccio al mega evento per cui lo stesso sindaco Vesprini aveva emanato un'ordinanza di restrizione alla somministrazione di alcolici e di accesso alla spiaggia. In una litra davanti a Kebab di Viale Buozzi ha avuto la peggio un nigeriano ferito e trasportato al pronto soccorso di Fermo. Azioni preventive anche dalla polizia locale che a Piazza Caslini ha sequestrato da un gruppo di minorenni proveniente dall'entroterra Fermano uno zaino contenente superalcolici. Fra ragazzi minorenni registrati diversi casi di abuso di alcol per cui sono intervenute le ambulanze del 118. A tarda notte una sedicenne è stata soccorsa in spiaggia per coma etilico. Noi come già il secondo anno da quando siamo arrivati ci siamo uniti all'amministrazione comunale per questo evento che ci piace tantissimo che porta un po' di respiro al tessuto commerciale della nostra città e partecipiamo a un sostegno organizzativo a 360 gradi perché sia nella parte logistica dell'evento sia proprio su piazza stando qui insieme a Giampiero a attendere e accogliere gli artisti e insomma tutto quello che c'è da fare come ogni evento. Il nostro ruolo è sicuramente trovare quegli eventi che sono un po' più attivi nel turismo e Notte Rosa è uno di questi e poi proseguiremo con la padella gigante. La Notte Rosa è la notte più lunga dell'estate, San Giorgese. Noi sono tantissimi anni che facciamo la Notte Rosa e devo essere sincero ho perso addirittura il conto. Quello che posso dire è che questa è la seconda edizione di una lunghissima storia della Notte Rosa dedicata con un tema principale che è la musica. Abbiamo due viali principali con concerti, micro concerti, un grande villaggio per i bambini anche per le famiglie e quest'anno la festa è cresciuta. Si è allargata anche ai quartieri di Piazza Torino e a Porto San Giorgio Sud nella zona turistica Piazzetta Mosaico che questa sera ospiterà anche loro un bellissimo spettacolo. Che dire, è una bella festa, è allargata a tutto il perimetro del centro e non solo, principalmente i temi sono musicali e non solo. Buona Notte Rosa a tutti, veniteci a trovare perché il divertimento è assicurato.